Ciao ragazzi amici di News F1 Ci prendiamo 5 minuti in croce per commentare le modifiche del fondo visto su Ferrari e anche qualcosina visto su Red Bull alla luce di quanto è successo in gara quindi una Red Bull che di fatto mantiene da prestazioni un salvo Perez che sembrava proprio non essere in giornata non è commentabile la performance nel senso che non si è vista la performance della macchina sono successi avvenimenti che l'hanno portato completamente fuori strada la performance dell'automobile di Verstappen si vede è parecchio come sempre questo ci dovrebbe aiutare nel ragionamento logico che ci porta a capire se le due direttive tecniche, se le ultime modifiche di regolamento hanno influenzato la Red Bull oppure no a parer mio non più di tanto ma è poi la pista che ce lo dice e sostanzialmente quindi potremmo dire Singapore forse non era proprio una pista adeguata Red Bull forse ha avuto lì qualche attimo di caos all'interno della squadra non sono riusciti a gestire il weekend però assolutamente la macchina è super performante anche dopo questi cambi regolamentari Ferrari invece va a introdurre delle modifiche sul fondo per cercare di continuare lo sviluppo che diciamo si incomincia a vedere a partire dalla decima gara in poi cioè da qualche mese in avanti la Ferrari sta portando avanti buoni sviluppi sta cambiando la macchina che sta diventando più equilibrata tanto lavoro c'è ancora attorno al fondo soprattutto nella parte iniziale e nella parte diciamo finale non si sta ancora lavorando più di tanto secondo me su quello che è il marciapiede la sigillatura del fondo si va a modificare diciamo in un certo senso i grandi pettini all'ingresso del fondo questa è stata una modifica che ha portato fin da subito fin dalla prima volta che è stata fatta un ampiamento di questi pettini che sono più grandi adesso e continuano a crescere e ha portato la Ferrari a migliorare sensibilmente le caratteristiche quello che avevo ipotizzato e che continua a ipotizzare anche adesso fin dalla prima volta che hanno modificato questi componenti e che aspirava all'interno del fondo aria troppo turbolenta e troppo poco gestita cosa vuol dire? vuol dire che il fondo riceve come la maggior parte del resto della vettura aria già sporca perché sostanzialmente il fondo sta dietro alle grandi masse degli pneumatici a tutto l'alettone frontale mettiamoci anche il muso di per sé e l'impianto sospensivo l'aria che arriva sul fondo è sempre molto sporca indubbiamente già molto turbolenta se non riusciamo a gestirla in ingresso a dovere può creare instabilità troppo complesse da gestire poi sotto il fondo e verso la parte finale sul diffusore quindi ampliare quei componenti significa andare a prendere aria e andare a pettinarla molto prima molto in anticipo e molto di più rispetto all'ingresso vero del fondo così da avere un'aria più controllata che mi passa sotto la macchina e quindi aria più facile da gestire e da controllare sotto tutto il resto della vettura diciamo vettura che cambia molto anche come abbiamo detto nella parte finale del fondo diciamo l'espansione sembra accentuarsi prima finiva con un diffusore un po' meno largo ora vediamo delle bombature anche sulla parte finale del marciapiede un diffusore che sembra allargarsi un po' prendere un po' più di spazio quasi a dover richiamare più aria nella parte inferiore del diffusore da tutto il resto del fondo perché hai più spazio da riempire in questo momento e quindi se hai più spazio da riempire vai a creare più depressione sotto il fondo che deve per forza di cose apportare maggior quantità di flusso verso il diffusore che ora è più grande il diffusore è l'unico modo che ha per riempirsi e con l'aria che arriva dal fondo un diffusore più grande, più ampio deve richiedere più aria sotto il fondo più aria sotto il fondo significa più velocità dell'aria sotto il fondo ovvero più depressione e quindi più deportanza una Ferrari che sta portando avanti delle migliorie che la stanno portando se guardiamo la classifica ad andare a prendersi di nuovo con la seconda posizione che era assolutamente poco scontata seconda posizione in classifica che era assolutamente poco scontata fin dagli inizi del campionato sarebbe in realtà anche poco scontata adesso perché poi McLaren sta venendo su bene in teoria la Ferrari non è propriamente la seconda forza del mondiale adesso però due gare a questa parte sta riuscendo a stare davanti alla Mercedes a fare punti importanti sulla Mercedes e quindi andare a riprendersi la seconda posizione in classifica questo è di buon auspicio perché vuol dire che si sta portando avanti un lavoro concreto di fatto partire male come eravamo partiti nelle prime fasi del campionato e avere invece adesso una Ferrari che colleziona una vittoria che continua a portare avanti i punti sulla diretta sfidante in classifica quantomeno ci sta dimostrando che c'è del lavoro c'è del lavoro fatto con un certo criterio che sta portando la macchina di nuovo a risalire speriamo di vedere questo lavoro io vedo bene questo lavoro in ottica di invernale cioè se pian piano si riesce a riprendere il filo della matassa se si riesce a capire che problema ha la macchina e quindi se si riesce a portare avanti uno sviluppo fatto bene significa che i problemi sono noti ed è possibile andare a risolverli e durante l'inverno c'è molto tempo anche per farlo quindi è di buon auspicio Red Bull modifica poco il fondo lo modifica per andare a controllare ancora di più quello che è il marciapiede introduce un terzo elemento ondulatorio chiamiamolo così un terzo piccolo flap io li chiamo flap di fatto sono dei flap lungo il marciapiede che fa sì che ci sia ancora più espulsione dell'aria verso l'esterno e quindi di fatto non emissione di aria dall'esterno che è un po' quello che significa sigillare il fondo proteggersi dall'aria ad alta pressione che sta fuori e tenere sotto solo l'aria a bassa pressione quindi nulla di sostanziale ottimizzazione ulteriore di una macchina che comunque sta dimostrando di essere particolarmente adeguata a molte piste tralascierei l'episodio Singapore perché non ha funzionato qualcosa sicuramente e non credo che ci entri con le direttive tecniche perché la Suzuka ha girato veramente bene un saluto a tutti ci sentiamo nella prossima settimana e grazie a tutti per l'ascolto